diventare sindaco di 20 miglia di nuovo perché come diceva quando abbiamo governato noi 20 miglia era un'altra cosa, era un'altra cosa perché c'era chi aveva voglia di decidere ma era un'altra cosa anche perché i problemi si affrontavano in modo differente, ha appena citato Tano quello dell'immigrazione, quello dell'immigrazione è un problema serissimo che l'attuale sindaco però non ha mai potuto affrontare come avrebbe voluto, è come dico io, si che nei comuni si amministra però nei comuni si fa anche politica e se uno è sindaco del PD è difficile che possa dire quello che pensa contro come è stata trattata 20 miglia dal governo che c'era prima e dal governo del PD, tu dici che noi potremmo essere, potremmo accettare le quote di redistribuzione in Europa, Fratelli d'Italia dice che bisogna bloccare i porti per non far più partire nessuno dalla linea, non è possibile continuare ad avere immigrati perché una volta che sono andati sul terreno nazionale sul territorio nazionale poi non se ne vanno più e quindi l'unica soluzione che noi Fratelli d'Italia dicevamo è blocco dei porti, poi quando si sarà ristabilita la sicurezza nel Mediterraneo del Sud vedremo cosa fare, però per adesso blocchiamo i porti e impediamo che altre persone partano per poi magari morire in parte e poi arrivare qua e fare quello che fanno. e tralasciamo su cosa è successo in Italia in questi anni con l'immigrazione, con il business dell'immigrazione, con tutti quelli che si sono arricchiti con milioni di euro sull'immigrazione che ha reso più della trova perché è uno schifo quello che è successo e quello che è successo a 20 mila è ancora peggio di quello che è successo nel resto d'Italia perché è la porta della Liguria, è la porta dell'Italia, è quello che i turisti vedono quando entrano in Italia e quando entrano da 20 mila, una città che dal punto di vista turistico dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiano della nostra Liguria. Magari voi di 20 mila ci siete abituati ma non è così scontato avere delle bellezze così come il forte, come il teatro romano, come la Ventimiglia medievale, come avere un sacco di resti templari qua presenti che sono visibili e che nessuno sfrutta e quindi è chiaro che l'immagine di 20 mila, l'immagine turistica di 20 mila deve cambiare, io lo dico come assessore al turismo di Regione Liguria, non è possibile entrare in Italia e avere 20 mila non sfruttata turisticamente, è una folia per la città ma anche per il nostro paese e per la nostra Liguria. Quindi spero tanto che, sono certo, anzi che le donne e gli uomini che sono nella nostra lista di Fratelli d'Italia daranno il massimo per portare Tano a vincere queste comunali, come sono certo che Tano ricomincerà da dove aveva finito, a investire nella nostra città come nella vostra città, ma che sento anche un po' mia, è chiaro perché essendo di San Recombo di 20 mila e terra di casa, nella vostra città non solo in termini monetari, ma in termini di idee che sono mancati in questi anni. Mi dispiace anche che l'attuale sindaco, proprio in campagna elettorale, sia scaduto ieri in una polemica cercando di tirare contro di me, quindi contro Fratelli d'Italia, contro la regione, la questione dei trasporti con in Francia, non con la Francia, in Francia. I trasporti con la Francia sono una cosa, i trasporti in Francia sono un'altra cosa. Mi dispiace per quei frontalieri che l'altro giorno sono rimasti bloccati giù dal treno, rotto, perché noi in Italia, la regione Liguria, ha un programma di autobus sostitutivi che entro un'ora prendono chi è rimasto a piedi e lo riportano a casa. La Francia questo non lo fa. Ma se dire del dir da Iokulama che ha responsabilità di regione Liguria, questo perché io sono l'assessore dei trasporti, forse che ha già spedito in Europa lui, pensa che possa comandare anche SNCH, ma così non è. Con i francesi è impossibile parlare, non ci da una retta, in questo momento tanto meno, se possono fare qualcosa contro l'Italia, lo fanno. Ma se dire del dir da Iokulama veramente mi ha fatto sorridere, prima incazzare. E questo rile da Iokulama è possibile, io ho risposto a dovere, non so quali quotidiani, oggi abbiamo ripreso la mia risposta, ma ha detto che anche se siamo in campo elettorale, lui sul tema così delicato, dove le persone vivono quotidianamente sulla preoccupazione dei disservizi dell'elettronomia francese. Più che di quelli italiani, lui non sarebbe dovuto intervenire, soprattutto non sarebbe dovuto intervenire tirando dentro la regione che assolutamente non c'entra nulla in questa vicenda. Questo mi dispiace perché quando uno è sindaco dovrebbe essere sindaco di tutti e non solo della sua parte politica. Stavolta è riposato che in campo elettorale lui è sindaco solo di chi lo appoggia e non degli altri. Quindi, scusate di essere una piccola digressione, ma mi sembra che qua in terra di confine sia dovuto. Le elezioni europee che oggi affrontiamo insieme con l'onore di affrontarlo con Daniela Santacheco è qua presente perché l'Italia rappresentano un punto importantissimo perché desideriamo e vogliamo a tutti i costi portare più di un rappresentante dell'Italia con le nostre idee sovraniste in Europa. Ci vogliamo portare perché l'Italia venga rispettata come stato sovrano. Ci voglio portare.